Il castello mi pare sia concluso, ma vai giù dalle scale, fai finta, Kirby, non farmi incazzare che sia cupoloso e teneroso. Ok, basta, finito, avremo la conferma ovviamente del prossimo mondo, ma mi pare che abbia preso tutto quanto. Gucchi non ce ne sono, no, quindi andiamo al prossimo mondo! Di tesoro non ne mancano tanti, infatti ne mancano pochini. Opla! Ed eccoci nel nuovo mondo! Qua si è liberato un casino di nemici, però qua c'è un tesoro, quindi ne valeva proprio la pena. Eh, però grazie al cazzo, lasciatemi entrare almeno, spiegati. Ma tu cosa punisci? Perché? Cosa scopia? Perché? Vediamo. Non ho dimenticato nulla, fa chi è? Il castello è la parte più contorta, complicata di tutto. Quando si finisce quello, si tira un sospiro di sollievo. Allora, qua mi serve il jet e qua ci potrò mettere tanto. Qua di solito ci metto in media tanto a farcela. Devo andare laggiù, praticamente. Però vedete che c'è il vento che mi tira, quindi col jet devo essere capace, con una carica, di andare giù. Qua ci metto sempre un casino di tempo, anche perché c'è quella bomba schifosa giù. Ok, ce l'ho fatta. Col ninja che mi vuole... C'è sempre un ninja che mi vuole fregare. E lo prendo anch'io, il ninja. Oh, ho detto che voglio prendere il ninja, non me l'ho lasciato prendere. Ah, ok. Gnu, gnu, gnu. Ok. Allora qua andiamo a salvare i progressi. Yes, ok. Andiamo avanti. E qua... Vediamo qual è l'ultima stanza. Ah, ok. Questa qua non è. Ah, qua mi serviva il jet, però. Ho il fuoco che avevo, ma ho dovuto. Qua noterete che una parte è più scura e una più chiara, infatti ci si può andare giù. Sì, sì, me lo prendi. Grazie, amore. Ok. Ma vaffanculo, stronzo di un jet. Adesso faccio vedere io che è più potente. Tià. Allora, devo andare a sbloccare questi. Sì, infatti. Aspetta, valla che. Insomma, ci metto vent'anni. Facciamo una roba di stagione qua. E ridammi il mio. Ma sei cretino o cosa? Madonna santa. Non ce l'ho fatta a prenderlo in tempo. Certo che sei uno stronzo, però, lasciatelo dire. Ok. devo stare attenta che sono nell'orlo di morire e ci sono spine su spine quindi adesso con calma torniamo giù ok ok mi preferisco un uccellino più pratico ah che culo Kongs Barrel tutto è proprietà Nintendo quindi possono anche farlo allora vediamo vediamo ah una mela perfetto il plasma non mi ricordo per cui lo lo prendo io magari eh se non te lo prendi tu magari fa anche bene fa anche bene come cazzo cosa cazzo sto dicendo non lo so andiamo su 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 ah è qua mi sa che mi serviva l'uccellino invece e qua come si fa mi fai saltare sopra di te mi macchione non so lì come cazzo si fa che non lo so argh e lì sono un po' in crisi come facevo a prenderlo quello che palle sembra farsi cazzo meglio ma lì ci tornerò fra un po' adesso devo pensare un attimo come fare perché non è solitamente ti sei bloccato more oh no qua mi serve il 2 ecco perché che io non riesco a saltare e rallento ok no come cavolo si fa sono in crisi come cavolo avevo fatto proviamo comunque ah ok se ne faccio lì qua allora facciamo che lui ha il plasma e io mi prendo l'uccellino proviamo in due non lo so non mi ricordo sono piuttosto in crisi e dove era l'uccellino? ah è quello lì eh solo che qua si si muove tutto così ok ok cazzo ma non mi puoi fare col plasma tu minchia spara spara per dio e questa è la cosa da aiutante se lui sparasse col plasma me lo romperebbe e ecco facendo così funziona fatemi pensare come cazzo si potrebbe fare se lui fosse abbastanza maturo farebbe così e sarebbe finita e devo andare a cercare qualche altro potere non mi viene in mente nulla la stella ci direi che come cazzo faceva quella la stella lì non la devo prendere perché me ne manca una qua non mi viene in mente nulla è Vediamo Eh va in culo Ah con l'ombrello forse Proviamo Vedo che Ve lo prendo anch'io l'ombrello Facciamo in due magari che ne so Forse l'ombrello mi fa Forse saltando perché non mi viene in mente nulla Dai ci arriverò No l'ombrello serve qua Eh Kirby Ok No l'ombrello serve qua No l'ombrello serve qua